Buongiorno a tutti, sono alla Commodore Industries, guardate, guardate, vedete il logo Commodore? Sono con Luigi Simonetti, che è il proprietario del marchio Commodore, nonché presidente dell'azienda, che mi ha raccontato oggi che ad Orvieto hanno aperto uno stabilimento per la produzione di apparati Commodore. E io che sono un maniaco della Commodore, sono cresciuto col 64 e con tutto quello che c'era intorno, sono entusiasta di quello che mi ha raccontato, anche se poi la Commodore Industries si occupa pure di sviluppo software, non fa solo videogiochi, ha tablet, pc, però volevo sapere che cosa farei da Orvieto, Luigi? Guarda, innanzitutto grazie Massimiliano, è un piacere averti qua, fa sempre piacere quando ci vieni a trovare, gli amici sono sempre ben accetti qui in Commodore, che devo dirti, che abbiamo fatto dei passi in avanti, sono contento, anch'io da Commodoreiano non vedevo l'ora di potervelo raccontare, finalmente stiamo portando la produzione qui in Italia per presentarvi, offrirvi un prodotto totalmente made in Italy, benché adesso è un prodotto di altissimo livello perché è costruito in Germania, quindi con i nostri cugini tedeschi che fanno delle cose bellissime e nella migliore maniera, però qui in Italia noi abbiamo quel quid in più, sappiamo farlo così all'Italia maniera, fatto sempre con qualità sia nel design che nella tecnologia top e sono contento soprattutto di condividere quello che Commodore sta diventando con tutti gli italiani, soprattutto con i ragazzi, tanto è vero che ad Orvieto ci sarà un reparto solo esclusivamente fatto per gli studenti, inalavorati e i laureandi, questo per quale motivo caro Massimiliano? Perché crediamo soprattutto nella crescita del nostro paese, Commodore si deve insediare nel sistema paese come opportunità per le industrie locali, ma non solo, per anche in modo trasvertale per tutti quelli che fanno, insomma voglio dire, che lavorano nel nostro settore. E quindi finalmente le tecnologie IT, la produzione dell'hardware, di quanto c'è intorno, ritorno in Italia a questo punto. Ritorno in Italia, affronteremo un percorso graduale, perché il primo anno, quindi nel 25, faremo assemblaggio, quindi con tutto quello che arriva dalla Germania, lo porteremo qui per fare assemblaggio qui in Italia e formeremo il nostro personale per poi ritrovarci molto probabilmente nel 25, inizio del 26, addirittura a produrre proprio qui totalmente, quindi piastra madre e quant'altro. Questa è una sfida che è sempre più reale, siamo contenti di raccontarla, la racconteremo meglio addirittura con un docufilm che stiamo girando, i ragazzi del reparto creativo sono sempre all'opera, stiamo realizzando questo film che racconterà meglio come Commodore farà i propri hardware qui in Italia. Non vi posso svelare niente, anche se tu qualche cosina già l'hai vista, però non fare la spia, tiriamoci insomma, voglio dire, questo segreto... Non spoilerare, non spoilerare, però ve lo racconteremo. E allora come segno di buon augurio per questa nuova avventura abbiamo portato Cosmo, il cane dello spazio, che a questo punto dallo spazio arriva pure alla Commodore. Ma ci ha raccontato Cosmo, adesso a me intimamente mi ha detto che prima o poi venderà anche sulla Luna lui, sarà il nostro agente lunare. E noi speriamo che questa cosa succeda, così, oltre che la riproduzione nello spazio con Cosmino e Cosmina, ci sarà anche il primo venditore, il primo commerciale di tecnologia umano nello spazio. Ma certo, noi sempre accanto a SMS, ragazzi, eh. Forti. In bocca a loro. Ciao, grazie.